Musica Prepariamoci all'estate, quella torrida con punte che arriveranno a toccare i 40 gradi. Come previsto dai meteorologi dalla giornata di venerdì al sud, sulle isole i termometri supereranno abbondantemente i 35 gradi di temperatura. L'anticiclone africano rincarerà la dose su buona parte della penisola, con correnti molto calde provenienti dal deserto tunisino che interesseranno prima le Baleari per poi arrivare sulla Sardegna e sul sud del paese. Le temperature aumenteranno un po' ovunque con i valori più alti che si registreranno sulle isole maggiori e l'estremo sud, al nord massime previste fra i 26 e i 33 gradi, al sud invece punte che arriveranno a sfiorare anche i 38. Il record dovrebbe aggiudicarselo la Toscana con punte fino a 40 gradi. Tra il 1978 e il 2006 è stato negato il corretto trattamento economico durante il corso post laurea a 300.000 specializzanti, nonostante le direttive comunitarie. Inoltre i corsi di formazione non sono conformi alla normativa europea e non sono quindi riconosciuti negli altri stati membri. Come risultato, questi specializzanti hanno un punteggio più basso rispetto ai colleghi nei concorsi nazionali e possono avere problemi se decidono di lavorare all'estero. Secondo un avvocato del gruppo Consulcesi, che ha difeso in azioni collettive circa 100.000 medici italiani, questi medici hanno un titolo che viene considerato di serie B e non sono stati retribuiti. Lo Stato è obbligato a risarcimento perché ha violato la giurisprudenza dell'Unione Europea e dell'Italia. Manca meno di una settimana alla maturità e il ministro dell'istruzione Marco Bussetti suggerisce agli studenti di presentarsi con un abbigliamento decoroso. Evitare quindi infradito e shorts e consiglio ai ragazzi di indossare una camicia di cotone per non soffrire il caldo. Assolutamente vietati i cellulari, essere sorpresi con lo smartphone comporterebbe l'immediata espulsione. Per scoraggiare scoppiazzamenti, le scuole sono invitate a disattivare i collegamenti Wi-Fi. Per quanto riguarda le tracce, il ministro spiega A deciderle sarò io da solo perché è necessario mantenere la completa segretezza e si augura che quando saranno lette ci sia una reazione di stupore ma felice degli studenti. Google Maps introduce nuovi servizi, primo tra tutti il servizio SOS Alert che avvisa gli utenti in caso di disastri naturali. Per quanto riguarda gli uragani, l'applicazione avvertirà l'utente se questo si trova vicino ad un'area che sarà colpita mentre in caso di terremoti, l'app mostrerà l'epicentro e l'area interessata dalle scosse. Il popolare servizio di mappe introduce anche il tachimetro, uno strumento che indica in tempo reale la velocità a cui si sta viaggiando e manda un alert al guidatore se questo sta superando i limiti di una certa zona.